Siamo con padre Maurizio Patricillo, si è appena conclusa la cerimonia funebre per l'ultimo saluto qui a Maddaloni all'onorevole Antonio del Monaco, una cerimonia semplice, essenziale, così come voleva Antonio, come era Antonio, ma anche molto commovente, molto partecipata. Signor, ringrazio il Signore per aver conosciuto Antonio tanti anni fa, siamo stati amici di tante battaglie sempre a favore del territorio, a favore della nostra gente, l'ho avuto sempre accanto, abbiamo avuto la grazia anche di poterci scambiare tanti messaggi, soprattutto in questo periodo in cui è stato male, l'ultimo proprio qualche giorno fa prima di entrare in sala operatore mi chiedeva di pregare che lui potesse guarire per tornare ancora a combattere con noi, poi è arrivata la notizia invece che non ce l'aveva fatta ed è arrivato proprio il giorno in cui io ero già così addolorato per la morte di mio nipote, morto dello stesso male, logicamente un anno dopo che è morta sua mamma sempre con lo stesso male e sono anni che noi andiamo gridando all'Italia che le cose qua non vanno bene in questo nostro territorio e per tanti anni nessuno ci ha ascoltato fino a che nel 2021, febbraio del 2021, l'Istituto Superiore di Sanità ha avuto il coraggio per la prima volta di ammettere che vero in questo nostro territorio ci sia male, si muore più di cancro, di leucemia, più che altrove, anche per i problemi legati al disastro ambientale, quindi la lotta continua, io perdo un grande amico e anche un compagno di battaglia perché Antonio era sempre accanto e come ha detto anche il sindaco poco fa col suo sorriso, con la sua bontà ma anche con la sua fermezza, lui c'era e tu sapevi di poter contare su di lui, adesso anche lui dal paradiso stamattina scrivendo qualche cosa su Facebook ho detto Antonio ci hai tradito, anche tu ci hai tradito, lo dicevo veramente con tanto affetto ma anche con tanta rabbia dentro perché l'ho vissuto anche con una sorta di tradimento, non è il primo che se ne va sempre per questa malattia, prima di lui se ne è andato il nostro caro Maurizio Montella che stava al Pasquale, era il direttore scientifico del Pasquale, anche lui con questo brutto male e tanti altri amici, noi continuiamo finché il Signore vorrà, però è giunto il momento veramente di raccogliere adesso il testimone che Antonio ci lascia per continuare, l'ho detto anche ai più giovani poco fa che stavano in chiesa per continuare noi questa battaglia perché questo territorio possa rinascere, questo è il messaggio che ci lascia Antonio, io ringrazio il Signore per averlo conosciuto, per avergli voluto bene e mi sono sentito veramente da Lui voluto bene e apprezzato, grazie.